we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo come sempre un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite sono state trovate delle cose curiose in game riguarderanno i nuovi picconi ma riguarderanno anche delle nuove navicelle che vi voglio andare a far vedere parleremo della nuova icon series e tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto dove l'ho messa di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi è un argomento veramente molto curioso sapete che esiste un modo super super facile utilizzando i guanti di iron man per non essere praticamente mai toccati dalla tempesta beh ragazzi se non lo sapete vi faccio vedere questo spezzone video che vi mostro un pochettino quanto siano rotti i guanti di tony lanciate un paracadute avete in mano i guanti di stark vi ci buttate sopra dopo esservi librati in aria e guardate che diabine succede ragazzi è molto probabilmente un bug che andrà sicuramente sistemato ma direi che non dovresti avere nessun problema a raggiungere la safe provateci perché fate dei salti veramente incredibili e quindi sarete comodissimi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quanto riguarda il tanto atteso midas flopper abbiamo visto che nonostante lo spawn rate del pesce vendetta sia il 4 per cento moltissimi di voi lo sono riusciti a pescare e quindi hanno completato la scheda punti dei pesci ma per quello che riguarda invece lui ragazzi il midas flopper la sua percentuale di spawn è lo 0,00004 per cento il che lo rende il pesce più difficile da pescare per quanto riguarda appunto questo dato addirittura più raro del pesce mitico che è veramente un qualcosa di incredibile vi ricordo che il pesce mitico se lo pescate vi esce tipo trofeo voi lo raccogliete e potrete continuare a lanciarlo un po per come succede ad esempio con le lattine quelle che pescate fa un danno mostruoso e lo potete utilizzare infinite volte per quanto riguarda invece il midas flopper la sua caratteristica è che cambierà una volta consumato tutto il vostro loot in leggendario qualsiasi sia la rarità delle vostre armi quindi non è ancora comunque presente in game hanno solo messo lo spawn rate e poi staremo a vedere se qualcuno riuscirà a pescarlo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché qualche giorno fa vi avevo anticipato questa immagine anzi in realtà avevo anticipato il balletto ragazzi il nuovo ballo dedicato al a un ballo che sta sfondando su tik tok che però ragazzi nonostante sia un ballo solo arriverà in due diverse movenze chiamiamole così vi faccio vedere è un ballo che spinge praticamente a farlo insieme ad un vostro amico come vedete le entrambi i personaggi utilizzano la stessa emote ma non si muovono allo stesso modo la cosa è veramente molto divertente perché il lobby ovviamente se qualcuno lo sta ballando vi verrà segnalata la possibilità di interagire con il ballo di questo giocatore almeno per quanto riguarda ovviamente la pre lobby e quindi potrete ballarlo insieme anche qua non posso purtroppo farvi ascoltare l'audio in quanto è copyrightato ma è molto figo arriverà probabilmente entro questa settimana andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo una delle news più incredibili mi spiego meglio ragazzi ovviamente quello che vedete alle mie spalle è il signor travis scott una delle skin che nonostante sia arrivata con un notevole ritardo rispetto a tutte le altre ha ha catturato il cuore dei giocatori che l'hanno acquistata l'evento di travis è stato a parer mio uno dei più belli fatti su fortnite è stato un concerto spaziale astronomica tra l'altro il nome dell'evento in sé e perché vi faccio vedere la skin di travis perché da poche ore sui forum dedicati a fortnite è apparsa una persona che ha rilasciato questa immagine ragazzi e wa a o è una variante di travis e passatemi il termine ragazzi è molto più cool di quella che già abbiamo questa versione di travis con tanto di sembra un impermeabile quello catenaccio cattivissimo e magliettina devo dire mi piace parecchio la cosa che lascia un pochettino spiazzata tutta la community di fortnite tutti i leakers è che questa fonte anonima che ha rilasciato questa immagine dice che per 500 dollari potrebbe rilasciare una tonnellata di nuovi leaks riguardanti il futuro di fortnite a lungo termine il che ci fa pensare ovviamente che sia uno dei membri dello staff ufficiale di epic games che per tirare su qualche soldo extra abbia deciso di svendere un pochettino i prodotti ancora segreti di fortnite io ragazzi non lo so ma è fatta veramente bene questa skin e sebbene l'immagine sgranate io mi sento di dire che potrebbe essere vera ovviamente prendete tutto con le pinze perché non abbiamo la certezza che sia una cosa ufficiale la fonte sembra buona le immagini sembrano buone ma nessuno è disposto a spendere quella cifra per trovare un pochettino di leaks in più e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per questo piccone questo ragazzi se non ricordo male dovrebbe essere il doppio piccone che ha avuto lo stile anche un pochettino più scuro e le combo cleavers come vedete scritte in inglese la cosa che sembra veramente curiosa è che dovrebbe arrivare non si sa quando una nuova variante ma che però sarà discostata e quindi non verrà aggiunta come stile extra alle due varianti che questo piccone già hanno addirittura si sa già che verrà messa in vendita nello shop questa cosa ci fa un po pensare perché potrebbe per caso essere un piccone dedicato a una skin che possa avere una certa importanza nella storyline non lo sappiamo assolutamente però queste sono le voci che arrivano io ragazzi tutto quello che riesco a scoprire ve lo dico anche a voi e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo finalmente una nuova icon series già se ne parlava da un bel mesetto abbondante quello che vedete ragazzi nell'immagine è il signor greg youtuber parliamo di gente con milioni di iscritti che durante una sua live un pochettino si tradisce vi faccio vedere vi leggo la traduzione lui è qua che saluta tutti i ragazzi e dice tutti sappiamo quando ho appena saputo quando arriverà la mia skin voglio darvi un piccolo indizio intanto si beve la sua bevanda e dice questa frase in questo momento time of the year with happiness sarà un anno ricco di felicità potrebbe essere intesa ragazzi come il periodo natalizio quindi uno dei periodi più corretti per far uscire una nuova icon series vi ricordo che abbiamo quella di loser fruit e abbiamo quella di ninja adesso potrebbe arrivare quasi sicuramente quella di greg anche qui ragazzi staremo a vedere non appena lui stesso dato che sa già tutto si tradirà un pochettino e arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi perché hanno trovato nei file di gioco un nuovo heli carrier dovrebbe appunto essere una nave da cargo passatemi anche qui il termine heli carrier vi avevo già fatto vedere un paio di giorni fa che era stata trovata una nave simile a quella della lobby che però rimaneva esattamente sopra l'agenzia ad un chilometro e 6 di altezza dalla superficie il fatto che adesso sia stata trovata anche questa nuova navicella potrebbe farci pensare che qualcosa sta per succedere nel middle della season anche perché vi ricordo questa season è un pochettino più lunga delle altre non abbiamo ovviamente informazioni aggiuntive ma già due navicelle belle grosse sono state trovate staremo a vedere insomma ragazzi per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao